Il Letoianni batte il Pozzallo per 3 a 1, tu sei stato determinante nell'arco della partita e soprattutto nel secondo settore. Sì, era una partita difficile, molto difficile perché comunque è una squadra che occupa una posizione di classifica poco sopra di noi, quindi era fondamentale per il proseguimento del campionato vincere questo partito. Eravamo in causa, c'era un grande pubblico, ci ha aiutato molto nei momenti terminanti della partita. Io quando sono stato chiamato in causa ho pensato a dare il meglio di me stesso e andato bene. Avete avuto soltanto un black nel terzo set, non siete riusciti più a ricoperare, dovevo essere stati 8 a 8, loro sono passati in vantaggio 14 a 8 e poi questo spazio di punto è andato via. Sì, abbiamo avuto un piccolo callo nel terzo set che ci è costato il set, però penso che ci possa stare perché comunque avevamo un grande avversario davanti, non era una squadretta diciamo. Cosa cambia per il Letoianni in classifica questa vittoria? Niente, perché già sappiamo quali erano i nostri obiettivi, quali sono i nostri programmi, quindi continuiamo per la nostra strada.